La sospirata corsa alla cavalcata dell'assunta, venuta a mancare lo scorso anno per via della pandemia, è pronta ai box di partenza. Adolfo Leoni, giornalista, scrittore e regista della rievocazione storica più amata dai Fermani, ha illustrato il programma. La cavalcata si fa, siamo arrivati al quarantesimo anno. Quest'anno ci sarà tutto, anche se con un certo ridimensionamento. Per esempio i figuranti che sfileranno il 14 sera non saranno 1.2003 come nelle edizioni precedenti ma saranno in 700, comunque sempre un bel numero. Con un'attenzione particolare alla veridicità storica della cavalcata e all'estetica delle dame e dei figuranti. La cavalcata risale al 1182 quando ci sono i primi documenti che dicono oltre all'aspetto religioso c'era anche l'aspetto ludico. Però poi per una questione di un accordo tra le contrade si è stabilito che la cavalcata rappresenti quel periodo nel 1436 quando il signore Francesco Sforza crea un suo stato, una signoria a fermo. Noi ci troviamo al Girfalco che era il luogo del castello dove c'era la rocca abitata appunto da Francesco Sforza e da sua moglie che era Bianca Maria Visconti. Il 12 di agosto ci sarà la tratta dei barberi e non berberi e l'abbinamento cavalli e contrade. Quindi una piccola sfilata e poi dopo priori e dame vedranno i cavalli, ci sarà il sorteggio e ci sarà poi l'abbinamento. Il 14, questo enorme corteo processionale partirà come storicamente è attestato da Santa Lucia alla parrocchia diciamo più lontana per salire gradualmente sino al Girfalco. E qui portare i doni alla Madonna Assunta in cielo, cavalcata dell'Assunta appunto perché è dedicata alla Vergine Maria. Verranno portati i ceri, quindi la cera e verranno portati poi i frutti del mare, i frutti della terra e i frutti del lavoro. Quindi sfileranno le corporazioni, sfileranno le contrade. Inizierà tutto alle 20 e 15 con un concerto di campane. Inizierà il campanone del Duomo, risponderà la chiesa di San Domenico e terminerà la chiesa di Santa Lucia. Dopo questo concerto di campane usciranno i priori dal loro palazzo, il palazzo dei priori, e raggiungeranno le proprie contrade a Santa Lucia. Quindi praticamente un corteo inverso. A Santa Lucia torneranno alle loro contrade non essendo più i priori del popolo ma tornando ad essere dei semplici priori di contrada. Ecco, si metteranno in fila e il corteo tornerà indietro. Si fermerà in piazza del popolo dove scenderà dal palazzo dei priori il rettore con i suoi docenti. Si riformerà il corteo che arriverà in Duomo. Quindi qui ci sarà il momento religioso con il vescovo ad accogliere. Il vescovo accoglie anche i doni. La celebrazione liturgica. Si ricrea un corteo, questa volta un tantino più sintetico, e si scenderà nuovamente in piazza. Si raggiungerà il palazzo della sottoprefettura, oggi il comune, da dove i priori si affacceranno insieme al Podestà e a questo punto faranno l'estrazione delle partenze. Quindi la partenza del 15, la corsa dei cavalli. I primi saranno questa contrada, quest'altra contrada, quest'altra contrada ancora. È un momento molto partecipato e molto sentito dai contradaioli.